Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, una frase divenuta quasi proverbiale molto più profonda di quanto può sembrare. Cerchiamo di capire, al tempo di Gesù la Palestina era occupata dai Romani, avevano imposto gravose tasse e in quegli anni, caso eccezionale, avevano coniato una moneta con impressa l'immagine dell'imperatore con una scritta, Tiberio Cesare figlio del divino Augusto, siamo di fronte alla divinizzazione dell'imperatore. Da qui la domanda tra bocchetto posta a Gesù, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Se Gesù avesse detto di sì, lo avrebbero accusato di essere filo romano e idolatra, se avesse detto di no, lo avrebbero accusato di essere un anarchico, un rivoltoso e lo avrebbero denunciato ai Romani. L'intento è far cadere Gesù e la domanda parte, però da premesse sbagliate. Si stanno confondendo i campi Dio e Cesare. Vedete, miei cari, oltre al fatto che qui volevano far cadere in errore Gesù e gli pongono appunto una domanda apparentemente inestricabile, va detto che a volte nella vita anche noi possiamo porre delle domande che non trovano risposta che partono da premesse sbagliate. Vi faccio un esempio delicato ma comprensibile. A volte arriva la sofferenza e ci sono persone che passano la vita a chiedersi perché proprio a me, perché Dio mi ha fatto questo. Al di là del fatto che è legittimo chiederlo nel senso che è alla fine anche questa una forma di preghiera quando è rivolta al Signore, questa domanda però può partire da delle premesse sbagliate, cioè pensare a Dio come ad un amuleto, ad una sorta di assicurazione contro gli infortuni, oppure pensare che dato che io in qualche modo seguo il Signore sono esentato da tutti i problemi, da tutte le difficoltà. Forse più che chiedermi perché proprio a me, potrei chiedermi e perché non a me, ma soprattutto che cosa mi vuol dire il buon Dio attraverso questa sofferenza, cosa posso imparare, come mi può servire ad amare di più lui e gli altri. Ma ritornando al nostro testo, Gesù sposta tutto su un piano più elevato, fa prendere loro un denaro e chiede di chi è l'immagine e l'iscrizione di Cesare? Dunque rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Anzitutto ad un primo livello fa una distinzione tra Cesare e Dio. Sta dicendo questa moneta di Cesare rendetegliela. Oggi diremmo rendete allo Stato il suo, pagate le tasse, contribuite al bene comune. Quelli avevano chiesto se è lecito pagare. Gesù risponde col verbo restituire. Padre Hermes Ronchi diceva prima avete avuto ora restituite. Lungo l'elenco ho ricevuto istruzione, sanità, coesione sociale, giustizia, servizi per i più fragili, cultura, assistenza. Ora restituisco qualcosa. Da qui il dovere civile di giustizia, ma anche di carità, appunto di pagare le tasse. Come ha ricordato il cardinale Ravasi, attraverso il contributo alla struttura statale si esprime infatti la solidarietà, si tutelano i più deboli, si incrementa l'assistenza sociale, si tenta una certa distribuzione dei beni, evadere il fisco e dunque un peccato contro la carità. E dall'altro lato appare quanto sia grave e infame il peccato di furto nei confronti del denaro pubblico, allegramente perpetrato da alcuni politici e da funzionari statali. Lo è in modo particolare per quei politici e impiegati che si professano cristiani, che spesso usano questo titolo solo per rappresentare ipocritamente se stessi, i loro movimenti, i loro partiti, le loro organizzazioni. E in effetti, miei cari, quanti danni, quanti tagli, quanti problemi, soprattutto per i medio-piccoli, laddove dilagano illegalità, evasione, corruzione. Ma dall'altra parte Gesù ci ricorda rendete a Dio quel che è di Dio. E che cosa è di Dio? San Paolo dice tutto è vostro e voi siete di Dio. Infatti dove è impressa l'immagine di Dio? Che cos'è che Dio ha creato a sua immagine? L'uomo è la donna. Dunque allo Stato rendi le sue tasse, sia un onesto cittadino, ma a Dio rendi il tuo cuore. A lui appartiene la vita, ciò che hai e ciò che sei. In te ha impresso la sua immagine. Tu non appartieni a nessuno, a nessun potere, non lasciarti a servire da nulla. Tu sei cosa sua. Dunque dai a Dio te stesso, dagli il primato nella tua vita. Lascia che la sua parola e il suo santo spirito guidino il tuo sentire, il tuo agire. Allora capiamo bene miei cari, il problema non è soltanto distinguere gli ambiti. Il punto è molto più profondo. Si tratta di chiedersi ma la mia vita a chi appartiene? A chi ho dato il mio cuore? Il problema non è opporre Dio a Cesare, non è essere fuori dal mondo. Il problema è stare nel mondo senza essere del mondo e vivere le cose, la realtà creata alla luce del Vangelo e vivere da figli di Dio. Allora se il Signore è veramente il Signore della mia vita, io vivrò ogni ambito della mia vita lasciandomi guidare da Lui, cercando di essere gradito a Lui, cercando di vivere e di amare come mi insegna Gesù. Il rischio che noi a volte corriamo è vivere a compartimenti stagni. Ricordo una persona che una volta mi disse no io nel mondo affettivo Dio non lo lascio entrare. E ma come funziona? In alcune cose sì e in altre no. Come a dire sono in chiesa prego, poi sono al lavoro l'arte dell'arrangiarsi, poi nel mondo affettivo chi più ne ha più ne metta, poi quando sono con gli amici l'armata branca leone, così è vivere una schizofrenia del reale. No, non funziona così. Ogni cosa secondo il cuore di Dio. Siamo chiamati a unificarci in Lui, a vivere ogni cosa profondamente uniti a Lui, dando di conseguenza a ciascuno il suo. Come diceva San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 13, rendete a chi il tributo il tributo, a chi le tasse le tasse, a chi il timore il timore, a chi il rispetto il rispetto. Da qui cristiani di tutti i tempi che sono stati anche disposti a soffrire proprio per questo. Pensate ai primi martiri, al tempo dell'impero romano, uccisi non perché fossero cittadini disonesti, ma perché si rifiutavano di sacrificare all'imperatore, cioè di dare a Cesare quel che è di Dio. Pensate alla testimonianza, ad esempio, nella passione di una donna e martire cristiana dell'inizio del III secolo. Si legge che il procuratore Ilariano, avendo il potere della spada, disse abbi pietà dei capelli bianchi del tuo padre e della tenera età di tuo figlio, sacrifica agli dèi per la salute degli imperatori. Ma lei rispose no, non faccio sacrificio agli dèi. Ilariano le chiese sei cristiana? Rispose sì, sono cristiana. Ecco, miei cari, come ci ha allora ricordato il Papa, in questa sentenza di Gesù si trova non solo il criterio della distinzione tra sfera politica e religiosa, ma emergono dei chiari orientamenti per la nostra vita. Pagare le tasse è un dei cittadini, come anche l'osservanza delle leggi giuste dello Stato, ma al tempo stesso è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana e nella storia, rispettando il diritto di Dio su ciò che gli appartiene, ad esempio sulla vita in tutte le sue forme, che va dunque tutelata e custodita. Qui, miei cari, dunque non si tratta di vivere fuori dal mondo, ma di vivere nel mondo secondo lo Spirito di Dio, di vivere sulla terra secondo il cielo, di camminare, come diceva Don Bosco, con i piedi ben saldi sulla terra, ma il cuore rivolto verso il cielo, cioè vivendo le cose impegnati nella realtà di ogni giorno secondo la grazia, secondo lo Spirito di Dio. Ciò che conta in fondo è anzitutto rendere a Dio il suo, dare a Dio noi stessi, il nostro cuore, dare a Dio il primato, tutto il resto sarà una conseguenza. Saremo onesti cittadini, lavoratori impegnati, buoni amici, perché quando Dio è al suo posto ogni cosa va al giusto posto. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti!